Perché un giorno sono venuto in palestra, ho visto una partita e mi sono appassionato. Perché avevo degli amici e poi mi è piaciuto e ho iniziato a giocare a basket. Perché lo faceva il mio nonno e il mio babbo. L'ho scelto perché me l'hanno consigliato. Faccio basket da tre anni. Quattro anni. Da cinque anni, quasi sei. Penso un mesetto. Mi sembra cinque. Questo è il quinto anno. Ah, frequentando il basket ho conosciuto tanti amici, insomma. Facendo basket. Ho fatto tante amicizie. Ho trovato molte amicizie. Metà delle persone le conoscevo di già. Io ho conosciuto molti amici, soprattutto qua al basket. E amici anche molto stretti e quindi mi ha servito anche a questo. Diventare un playmaker. Sì, diventare molto forte e abile in difesa. Arrivare a giocare nella Serie A. Sì, diventare famoso. Io invece sì, volevo giocare nella squadra di Michael Jordan, i Cicca Bullis. Grazie. Grazie a tutti.